Musica Musica di mattina a ben ora si si vede a l'alba e si inlasta una delle valli Pui Bieles al Friull la valli Racolano, un posto misterioso, magico, situato sotto dal monte Canin e dal monte Cimung C'è un rio Plitz, prima è un rio che si chiama Lissimpresis e qui è un rio che viene adoperato spesso e volentieri per fare i corsi per cui si comincia a praticare il canin in maniera un po' più interessante, un po' più approfondita e con le corde tu senti una volta sicura, però come la dite Cristian nel momento di quando tu arrivi su dopo delle cascade che nel momento è un po' più critici perché non sai se tu tocchi, non sai come hai dimolato la corde perché non si sa mai che tu non hai il target trovi alla l'arri quando si è in parte, spara dal che non stava avendo l'acqua che stesse in ribassi e dopo ai fin quando vince l'acqua su che vi invito mi dite, oh Biotto, c'è discesa, che ben fatto La monca di noi è veramente un tesoro di lux e persone, si può incontrare poi veramente preziosi come queste aziende biologiche di ospitalità comunitaria in Val di Aupe, ho sentito la tabacca con Marina, la parola di chiesa Sei convinta che da quando abbiamo cominciato a lavorare, dal 2005 a qui, le cose si sono cambiate di signore hanno dei pranzi che prima non dare, questo è anche un miglioramento della qualità di vita, ho pensato di tutti Mandi a tutti, mandi a tutti, io sono Cristian e io sono Francesca e questa è una nuova puntata di Xtreme TV, una trasmissione che va alla ricerca dei sport più incredibili più bulos e più selvadis della nostra regione L'unica cosa che non mi ha paura, non ho paura, non ho paura, non ho paura, la sale là magari ben plana, però mai fa tumf, 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 così Parassi bene i sginci, il pet e il quale, e il chaff col cazzo, e poi dopo si va e si prove Eh, non si impreva come che si vuole a resta, e qualche piccolo incidente a lei ti mette in conto Se si arriva a sapere di che sport, un turismo è molto intelligente, un turismo che apporta indi di fuori e che arriva a Glemone perché non sono i vini veramente adatti a questo tipo di sport La fede montana e le scolini dal Friula sono una volta conosciute per le loro produzione di vini e di roba di mangià E allora, a niente vi ho detto che si può stare di buono in un agriturismo avendoi Le isole da Cone si è formate dal flume Lusins, che si butta in tal mar tra Grau e Mon Falcone Muove il kayak di mar in region, un'attività che prima non esisteva E partiamo con le nostre attività di Lignan fino a Trieste, quindi cuvergiamo tutti gli questi dal Friuli Venezia giù E partiamo con le nostre attività di portale Allora, ci mette il gelato? Bene, benissimo, l'elato è proprio bene, l'esperienza è bellissima Puoi sentire che il kayak è un spettacolo con il kayak del mare, è un spettacolo, il Friuli è una regione fantastica Dopo il kayak è più che il kayak Allora, questa è una zona particolare per via dai canali e da laguna, mi sa tu spiegare il parquet? La nostra laguna, che è di Grado e di Maran, è una laguna a volte strette, cioè sono canali piccoli, quindi bisogna girare Insomma, adesso sono quasi un troio di montagne, però tutti questi occhi E possiamo prendere il kayak come il portepax delle macchine Possiamo mettere dentro la tenda, il sacco a pelo, le cose di mangiare E poi di instaffurare anche poi di una giornata L'attività agricole, l'attività agrituristica e i nostri sprogetti sociali e didattics Abbiamo costituito una cooperativa sociale gestita di sim femmini Che si occupa prevalentemente dai frutti della disabilità dal campo del lavoro Il sicchia tinta alla Val d'Inchiaroi, precisamente a Paolà E devor di no, ho podigno di devor dai noi, il Mont Cernio, un dei mons pui biei dei chiarni Tu hai questa sensazione di libertà Tu devi allora pensare a cose personali e intime Il discorso dell'autonomia ha dipenduto un tic dal peso del pilota Se ha cambiato di livello, si sbassa Se chiacchiamo sempre di ambiente, vanno chiacchiamo di persone La chiarni e senza persone non ha il senso di esistere Sarese un nu, sarese un bosco Non ha il senso, non ha la tradizione, non ha la cultura, non ha la storia E noi vogliamo dare un'impronta alla storia, alla cultura e alla tradizione locale E così siamo in la salì a provare un sport un e vorrei divertente, il kitesurf E tu? C'è la sua pausa in ogni isola di Capi nel Lignan Ti piace Cristian? Hai visto il primo questo? Sì, il primo questo L'anno sarà a 45 gradi e il sabato sarà a circa 2500 gradi Ma si sta benissimo, grazie di aver portato qui Francesca Sindilignan ormai da Dodi Sainz che vengono in questa isola, isola delle conchiglie per i turisti, isola di Martignano in gergo tecnico di Sino e vengono in chi con sia quei turisti che vengono dall'Austria, dalla Slovenia, dalla Germania appunto che abitano ultimamente anche qualche turista dall'est ma soprattutto surfisti che d'altriveni Proprio dal Mieci della Laguna, dove abbiamo fatto visita ad un agriturismo di mare, un errore particolare C'è ma si vive a chi? Si vive di luce a chi, calma e totale, non sono semaforo, non sono cammino, non sono macchine Tanti amici, si mangia, si beve e dopo si si salutis Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS